Un incontro con i rappresentanti della Giunta Comunale di Gela al fine di mettere in campo tutte quelle iniziative che possano migliorare le condizioni di vivibilità di Manfria. Si terrà domenica prossima alle 10.30 nei locali del 3P all'ingresso della zona balneare. C'è il discorso dell'acqua che non è stato ancora completato per quanto riguarda tutto Manfria, c'è il discorso della fogna che era stato promesso allora di Cartacqua che c'era un progetto e che non è stato fatto. Quindi se noi vogliamo sviluppare per come si parla il discorso del turismo, come possiamo sviluppare il turismo se questi servizi che sono servizi di primarità per quanto riguarda la zona balneare? Anche perché noi sappiamo benissimo che c'è una crisi enorme, una crisi profonda e quindi dobbiamo cercare di dare la possibilità a tanti giovani di essere dei piccoli imprenditori, dei piccoli, diciamo così, gente che si dà da fare per quanto riguarda il turismo. Il turismo certamente se non diamo i servizi non può assolutamente svilupparsi. I residenti di Manfria non chiedono la luna ma sono interventi immediati, lo dice il vicepresidente del comitato. Abitiamo ormai lì da 35-36 anni e fino a oggi anziché avere servizi, i servizi che abbiamo avuto, o che avevamo meglio dire, sono stati tolti. Ora, anziché incrementarli, noi andiamo a regredire. Si pensa che addirittura per la Fogna, che lottiamo tantissimi anni, ma non abbiamo visto mai nulla. E penso che se non si interessa l'amministrazione comunale a cercare di spingere, o tramite i fondi comunitari, come vedono loro la via più breve, la via migliore, quello che sia, se non vedono loro di svolgere e di togliere questo handicap che abbiamo, naturalmente non si può andare avanti per quanto riguarda quella che è la questione turistica.